Imprenditoria e creatività sono molto meno distanti di quanto si possa pensare. Ne sa qualcosa Marco Boglione? Ecco, quanto conta e ha contato per lei la creatività? Per me personalmente è un fatto soggettivo. In termini così generali, per me come imprenditore è tutto. Cioè un imprenditore non può non essere creativo, mettiamolo così. Perché? Perché se no come fa a differenziarsi dagli altri se non è ancora un imprenditore? Se poi c'è una grande azienda, una multinazionale, l'Unilever, beh lì si può fare altri ragionamenti perché ci sono gli abbrivi, ci sono le masse critiche, ci sono le abitudini del consumatore. Ma se uno ha 25 anni e vuole fare l'imprenditore a disposizione di un garage, secondo lei come fa senza creatività? Senza essere creativo, senza provare a essere diverso dagli altri. Quello che stanno facendo tantissime start-up nel mondo ma anche in Italia. Assolutamente sì, l'approccio oggi dei ragazzi nei confronti dell'opportunità dell'impresa è proprio di partire dalla creatività. Il tema di IF quest'anno è sovvertire. Il suo atto di sovversione è più grande? Il mio atto di sovversione è più grande, di voler rilanciare Stato negli anni 90, di voler rilanciare una grande azienda senza rifare un'azienda. E' riuscita la rivoluzione? Abbastanza, siamo ancora qui, quindi diciamo che la sopravvivenza è il primo obiettivo di un'impresa e di un imprenditore. Sono passati 25 anni, siamo sopravvissuti, quindi forse sì. Bene, quindi viva la sovversione? Viva la sovversione, sempre!